Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del telegiornale oggi è dedicata al venerdì santo. Gela rivive la tradizionale processione del Cristo nel giorno di raccoglimento, digiuno e astinenza in cui la Chiesa ci presenta la passione e la morte redentrice di Gesù. Sentiamo il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. La città di Gela ha sofferto e sta soffrendo un momento difficilissimo per la perdita di lavoro di tanti nostri fratelli e sorelle. Ho visto che per certi versi le luci che si erano elevate in un certo momento si erano accese anche con una certa focosità. Abbiamo fatto anche un momento, un corteo, se tutti ricordano. Adesso sono calate. Sono entrate, non vorrei dirlo, nel dimenticatoio. Vedo che la città su questo problema non è unita. Allora portare la croce di Gesù vuol dire concretamente condividere il fatto che 50, 100, 200 persone della nostra città o del territorio stanno perdendo il lavoro. E quindi anche se il problema non ci tocca, perché il mio lavoro ce l'ho, da un punto di vista cristiano e comunque da un punto di vista della nostra devozione a questo momento così importante della sofferenza di Gesù, noi non possiamo fare finta di niente. Cosa si può fare? La comunità ecclesiale si sta muovendo perché vuole promuovere dei forum, dei laboratori, perché si possa sollecitare, soprattutto i giovani, nell'inventare e creare lavoro. Poi, la solidarietà che nasce anzitutto dalla preghiera, dall'affetto, dall'attenzione, dal momento in cui, se c'è un raduno, tutti quanti si impegnino a partecipare. Abbiamo celebrato una messa, proprio perché questa situazione non accadesse e speriamo che non accada, speriamo che il Signore ci aiuti a trovare delle strade. Ma io mi sono trovato in questa celebrazione di messa, sia e non un centinaio di persone. Quando la nostra cittadina fa 80.000 abitanti, questo momento è un momento importante, perché la nostra città, così come siamo attorno oggi a Gesù, dovremmo esserlo nei momenti in cui anche una sola persona della nostra città si trovi a vivere un problema serio. Ho fatto il riferimento al lavoro. Portare la croce dei nostri giovani. E' un altro aspetto di questo portare la croce di Gesù. Portare la croce dei nostri giovani vuol dire dare speranza, ascoltandoli, a prendo con loro un dialogo. A volte non abbiamo, è vero, soluzioni. Però il fatto stesso che ci mettiamo lì, disponibili, ad ascoltarli, ascoltare le loro angosce, le loro situazioni difficili, i loro sogni che sempre più vanno dissolvendosi, attenzione, li aiutiamo ad uscire fuori da quelle condizioni di mala vita in cui purtroppo spesso essi cadono. Vogliamo anche omaggiare la Madonna. Noi siamo tutti devoti della Madonna. La città è consacrata alla Madonna dell'Alemanna. Chiediamo a lei che ci faccia convincere della verità del portare la croce. E una moltitudine di fedeli oggi si è riversata in piazza Calvario. Vediamo. Come ogni anno, Gela rivive la tradizionale processione del Cristo nella giornata del venerdì santo, giorno di raccoglimento, di digiuno e di astinenza, in cui la Chiesa ci presenta la passione e la morte redentrice di Gesù. È il momento culminante dei riti pasquali, il terzo giorno delle celebrazioni della settimana Santa Gelese e delle processioni che accompagnano le sacre figi del Cristo e della Dolorata. In Chiesa Madre da questa mattina una moltitudine di fedeli ha raggiunto il luogo di culto sostando in preghiera davanti ai sacri simulacri e all'urna che questa sera trasporterà il Cristo morto. Dopo la celebrazione dei salmi, la solenne rievocazione del pellegrinaggio penitenziale del Cristo sofferente che porta il peso della croce e della passione seguito dalla Dolorata. Il simulacro viene condotto al Calvario per la crocifissione. Caratteristica del venerdì santo gelese è il gruppo di lamentatori composto da un coro di anziane donne che ha accompagnato le processioni della settimana Santa e che continua a suscitare tantissima commozione tra i fedeli, accentuata dal triste rullo del tamburo e dalla marcia funebre scandita dalle note della banda musicale. Nella tarda mattinata l'antico simulacro settecentesco in cartapesta e cuoio del Cristo viene collocato accanto alla grande croce del Calvario e issato lentamente dove rimane per tutto il pomeriggio per essere venerato da migliaia di fedeli che riempiono la piazza. Le braccia si distendono sulla perpendicolare del legno e uno dei momenti più suggestivi e commoventi delle celebrazioni. Nella piazza gremita scende il silenzio accanto al Cristo viene collocata l'effigie della Dolorata. A mezzogiorno la crocifissione è il messaggio del vescovo Monsignor Rosario Gisana alla città. Dopo la preghiera della Divina Misericordia la via Crucis è animata dai giovani e la liturgia della Passione e Morte di Cristo. Questa sera alle 19.30 la deposizione dalla croce e l'imponente processione con il Cristo morto riposto nell'urna portata a spalla dai marinai gelesi. Domani giorno di sommo lutto. La Chiesa medita la morte di Cristo nell'attesa della resurrezione. In Chiesa Madre alle 9 la solenne suggestiva ufficiatura e riposizione del Cristo morto nell'altare della Passione. Alle 23 solenne veglia pasquale e messa di resurrezione domenica 27 marzo nella Chiesa del Rosario alle 9.15, alle 11, alle 12, alle 19.30 e alle 20.45 sante messe. Si terrà oggi alle 21 nella Chiesa Regina Pacis la Sacra Rappresentazione Venerdì Santo ispirata alle vicende della Passione di Cristo. Un momento di riflessione spettacolare, una tradizione consolidata che il Centro Giovanile Musica e Arte CESMA propone e rinnova anno dopo anno. Si tratta di una meditazione in chiave artistica con monologhi in dialetto siciliano, canti in latino e polifonie della tradizione popolare siciliana che attualizza i temi della Settimana Santa partendo dall'opera realizzata da Don Giuseppe Giugno catapultandoli nel contesto contemporaneo in cui verranno espressi anche i caratteri e le peculiarità della società odierna. In scena si alterneranno i personaggi chiave della passione in una molteplicità di esperienze che pongono l'uomo di ieri così come quello di oggi travolto dalla straordinaria potenza del messaggio della croce. Un messaggio di pace, amore, perdono e speranza che travolge con la sua bellezza l'uomo di tutte le epoche. E adesso ci occupiamo dell'innalzamento del livello di attenzione contro la minaccia terroristica a Gela, monitorati costantemente gli obiettivi sensibili. Ai nostri microfoni il dirigente del commissariato di polizia Francesco Marino. Dottore Marino, l'attività continua da parte della polizia ora ha maggior ragione dopo gli attentati che sono verificati in Belgio. Numerosi, se vogliamo, gli obiettivi sensibili anche a Gela che voi monitorate giorno dopo giorno. Come sapete l'attenzione delle forze dell'ordine in generale sulla realtà di Gela da sempre è alta. In questo periodo, soprattutto ma già da qualche mese per disposizione del Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica le varie forze di polizia attuano un sistema integrato ciascuno per i propri obiettivi per appunto non tralasciare nulla essendo Gela per certi aspetti molto molto importante mi riferisco alle gecenze della raffineria al porto, come tutti i porti all'aeroporto ahimè la cronaca di questi giorni ci conferma sempre che sono obiettivi molto dedicati e anche le piattaforme petrolifere da qualche mese facciamo un servizio integrato di vigilanza fino alle piattaforme sfruttando la squadra nautica e guardie di finanza e carabinieri quando ci sono i mezzi per fare in modo che ogni giorno ci sia anche una copertura a mare per questi obiettivi. La paura è tangibile? Allora la paura sarebbe utopistico non pensare che oramai è ovunque perché purtroppo il messaggio dei terroristi vogliono mandare è proprio quello di non fare stare tranquilli da nessuna parte per nessun motivo possiamo essere onestamente e soprattutto coscienziosamente contenti perché il dispositivo a parere mio è molto molto rodato soprattutto grazie alle direttive all'imbuto dell'autorità giudiziaria riusciamo con le direttive del coordinamento del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica ad avere un sistema che ripeto funziona e soprattutto c'è un ottimo scambio di informazione tra le varie forze di polizia impegnate sul territorio che per esempio faccio un esempio molto semplice ma denota l'attenzione l'arresto di due giorni fa di uno dei due fratelli albanesi e rientrava clandestinamente dall'Albania dopo un provvedimento di espulsione del signor questore e non è facile capite bene se non la macchina non funzionasse andarla a individuare e soprattutto arrestarlo su disposizione del procuratore capo la dottoressa Lotte perciò in questo senso abbiamo avuto anche un piccolo riscontro quotidiano di come l'attenzione alta all'attività di prevenzione funziona Ci sono a Gera musulmani presenti e se ci sono c'è un monitoraggio continuo? Allora il monitoraggio noi perché non voglia sembrare un qualcosa di specifico in negativo lo facciamo quotidianamente con le pratiche che l'ufficio immigrazione in sinergia con l'ufficio immigrazione della questura regolarmente rilascia e vi posso assicurare che la stragrande maggioranza delle pratiche sono tutte di gente stanziale che lavora che ha un motivo valido per stare oltre agli immigrati che vengono ospitate momentaneamente tengo a precisarlo nelle comunità che aiutano la macchina dell'accoglienza in attesa del disbriaco delle pratiche e la polizia ha denunciato un uomo originario di Vittoria che avrebbe tentato di strangolare la moglie davanti ai suoi figli dopo aver messo a soquadro la sua abitazione vediamo ha riferito che vi era stata solo una banale discussione con la propria moglie ma la verità era un'altra avrebbe infatti tentato di strangolare la consorte dinanzi ai suoi figli dopo aver messo a soquadro la sua abitazione e quanto ha scoperto la polizia di Gela che ha denunciato un uomo di 44 anni originario di Vittoria ma residente in città secondo quanto accertato dagli inquirenti l'uomo non contento dopo la fuga della donna a casa di una vicina ha inviato tramite messaggio Whatsapp la foto di un coltello a seramanico seguito da una minaccia se non torni a casa la brucio il 44enne è accusato di detenzione abusiva di un fucile e minaccia grave nella sua abitazione gli agenti hanno trovato 10 fucili una pistola semiautomatica e varie munizioni la scoperta più sconcertante è stata quella del ritrovamento del coltello a seramanico con la lama ancora aperta nascosto dentro la federa di un cuscino la moglie è stata colta da malore e trasportata in ospedale ne avrà per 4 giorni per feriti al collo è stato d'ansia e reattivo all'arrivo dei poliziotti l'uomo ha riferito che era tutto a posto solo una discussione tra marito e moglie ha detto ai poliziotti all'interno però l'appartamento era sotto sopra stanze parzialmente terzo quadro vetri rotti cassetti e sedie riversi a terra la moglie si era rifugiata come dicevamo presso l'abitazione di una vicina di casa assieme ai suoi figli perché a suo dire era stata poco prima minacciata ed aggredita dal marito preso da una furia senza precedenti tanto che aveva tentato di strangolarla davanti ai figli e solo grazie a quest'ultimi che erano intervenuti in sua difesa ha desistito l'intervento della volante è stato provvidenziale quella minaccia infatti poteva trasformarsi in una tragedia sempre la polizia nelle ultime ore ha eseguito cinque arresti e due denunce in manette Rosario Lignite 23 anni che dovrà scontare due anni per furti in concorso commessi nel 2014 arrestati anche due coniugi Rosario Pepe 60 anni e Rosaria Giovanna Termini 54 dovranno espiare la pena detentiva in carcere di tre anni e sei mesi per violazione continuata delle norme edilizie e costruzione abusiva accertati nel tempo a Butera negli anni 2009 e 2010 in carcere anche Salvatore Graziano Biundo 36 anni chiamato a scontare due anni e mezzo per droga e Salvatore Condorelli 21 anni condannato a due mesi per abusivismo edilizio due uomini sono stati denunciati per possesso di armi adesso ci occupiamo della puntata di ieri sera di Agora condotta in studio da Franco Gallo si è parlato della vicenda agroverde a tre anni dalla sua inaugurazione in Pompamagna non c'è nulla di concreto se non le macerie di una vasta area agricola vediamo un argomento un argomento assai spinoso per una puntata speciale la puntata pasquale di Agora andata in onda in via eccezionale di giovedì invece che nella canonica programmazione del venerdì sera si è occupata di agroverde e del tanto discusso progetto il ciliegino quello che doveva essere in embrione il più grande parco agrofotovoltaico d'Europa e che invece si è trasformato nel più grande blef della storia moderna di Gela una idea di sviluppo economico ed occupazionale alla quale si erano riposte le speranze di tanti gelesi e che nei fatti è invece diventata un incubo per molti per coloro che pensavano di avervi trovato un posto di lavoro sicuro per le aziende che avevano investito risorse economiche e prospettive future per gli ignari proprietari terrieri ai quali è stato espropriato forzosamente un pezzo della loro vita e che ad oggi si ritrovano ancora con un pugno di mosche in mano e dire che all'inaugurazione di quel cantiere oramai quasi quattro anni fa sul palco delle autorità salirono in tanti come sul classico carro dei vincitori a decantare proclami e a lanciare inutili promesse politici che alcuni sono stati già pesantemente puniti dagli elettori delusi ed altri lo dovranno ancora essere politici bravi a salire sul palco nel momento dell'esaltazione e che sono poi letteralmente spariti quando bisognava metterci la faccia per salvare il salvabile neanche un cenno per chiedere scusa ai cittadini gelesi ancora una volta traditi dai loro stessi rappresentanti da coloro che erano stati votati per difendere il territorio e che invece lo hanno svenduto al miglior in questo caso peggior offerente agroverde dunque come emblema di una città tradita dai propri politici ma si potrebbe chiamare pure vicenda Eni o vicenda Caltacqua o vicenda Tecra insomma storie diverse ma uguali legate tra loro dallo stesso unico denominatore comune ossia interessi della città mandati alla malora per arricchire qualcuno e politici traditori che svendono la propria terra per un piatto di ceci se ne è parlato ieri sera nella puntata speciale di Agorà andata in onda di giovedì in studio con il conduttore il sindaco di Gela Domenico Messinese e l'assessore al bilancio Fabrizio Morello poi il consigliere comunale indipendente Giovanni Panebianco che dopo un lungo periodo di silenzio su questa scabrosa vicenda ha sollevato nuovamente il lenzuolo su Agroverde con una interrogazione in consiglio comunale quindi l'avvocato Guglielmo Piazza che cura gli interessi dei proprietari espropriati e vessati ed infine l'ingegner Fabrizio Lisciandra che in quanto esperto in fonti di energia rinnovabile ha seguito passo passo sin dalla sua genesi la vicenda del progetto Il Ciliegino in apertura di trasmissione è intervenuto telefonicamente da Roma il vice sindaco Simone Siciliano che ha annunciato dal salotto televisivo di Agorà che finalmente si sono sbloccate le autorizzazioni ministeriali per dare il via ai primi cantieri delle bonifiche sul sito Eni e per i lavori della mantellata del porto industriale notizie queste che daranno a breve respiro alla grave crisi occupazionale di lavoro che esiste in città chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domenica sera alle ore 21 oppure attraverso i nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo di facebook di canale 10 Agorà tornerà regolarmente in diretta venerdì prossimo in prima serata come sempre con ospiti ed argomenti che riguardano Gela ed i gelesi la redazione e lo staff di Agorà augurano una serena pasqua a tutti i suoi affezionati telespettatori in vista del referendum del prossimo 17 aprile il comune di Gela ha predisposto un palco con impianto audio in piazza San Francesco lo ha reso noto il responsabile dell'ufficio elettorale Nando Incardona ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale entro il prossimo 16 aprile le famiglie degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Gela possono presentare istanza per l'assegnazione del contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo relativo all'anno scolastico 2015-2016 la domanda di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata esclusivamente all'istituzione scolastica frequentata dallo studente al beneficio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore o lo stesso studente se è maggiorenne appartenenti a famiglia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro i moduli di domanda possono essere ritirati nella scuola frequentata dallo studente oppure scaricati sul sito del comune di Gela www.comune.gela.cl.it manca solo un mese alla conclusione dell'AIF Leopoldi e la regione siciliana non ha ancora impegnato la cifra per realizzare le azioni concrete di sua competenza nell'area costiera Macconi di Gela si doveva procedere con opere di conservazione e di protezione delle dune al vivaio di Randello sono state riprodotte migliaia di piante tipiche del paesaggio dunale proprio con l'obiettivo di essere messe a dimora all'interno delle aree di progetto se la regione siciliana non procederà nell'impegno spese e nella realizzazione delle opere di sua competenza seguendo gli impegni presi verranno restituiti all'Unione Europea 300.000 euro e circa 60.000 piante prodotte da germoplasma locale non verranno messe a dimora sui Macconi di Gela se invece la regione siciliana si fosse attivata in tempo si legge in una nota a firma dei responsabili del progetto gli operai forestali avrebbero potuto svolgere le opere di tutela del patrimonio ambientale abbiamo uffici e competenze pronti a poter svolgere questi compiti leggiamo ancora nel documento ma senza aggiornamento e l'attivazione delle dovute procedure non riusciamo ad innescare quei processi che ci consentono di raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei la regione siciliana dovrebbe mettere in campazioni per salvaguardare il nostro patrimonio naturale recuperare ciò che abbiamo perso ed evitare catastrofi ambientali l'ex azienda Foreste e la cecità della regione rendono inutile il sostentamento degli operai forestali ha dichiarato Emilio Giudice direttore della riserva del viviere di Gela l'adesione a progetti europei come l'AIF innescando meccanismi di formazione e di specializzazione riqualifica l'uso e l'utilità degli operai stessi spesso addetti ad attività meno importanti e poco gratificanti oggi il nostro paesaggio naturale ha bisogno di specializzazione e competenze rendiamo utili forestali nelle attività che servono come la ricostruzione degli habitat e spingiamo per la crescita e l'innovazione per ridurre al minimo le perdite delle piante riprodotte al vivaio di Randello gli operatori del progetto Leopoldi hanno organizzato per le date del 30 e 31 marzo e per il 1 e 2 aprile una due giorni di attività intensa con lo scopo di mettere a dimora sulle dune di Gela quante più piante possibili con l'aiuto di tutti i cittadini associazioni e amanti della natura l'invito è aperto a tutti e l'appuntamento sarà dalle 10 al centro visite della riserva del viviere di Gela per informazioni e adesioni c'è un numero di telefono 366 4520 644 oppure su Facebook alla pagina Leopoldi Alive Project sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana numero 20 dell'11 marzo scorso quarta serie speciale è stato pubblicato il bando di concorso per titoli d'esami per l'ammissione di 605 allievi marescialli all'88esimo corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2015-2016 la presentazione delle domande dovrà avvenire entro l'11 aprile prossimo la domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando anche il comune di Gela aderirà il prossimo 2 aprile alla giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo l'amministrazione comunale patrocinerà le iniziative promosse dalle associazioni il labirinto di carta e oltre il muro dei lavori tematici apriranno la giornata alle 9 del teatro eschilo dal teatro eschilo dalle 19 invece in corso Vittorio Emanuele partirà la notte in blu alla quale hanno aderito anche i commercianti la chiesa madre sarà illuminata da luci blu come numerosi monumenti in tutto il mondo per sensibilizzare sulla patologia neuropsichiatrica lo stesso edificio di culto sarà interessato dalle 21 alle 23 da spettacoli ed eventi verticali mercoledì 30 marzo prossimo alle 17 in aula consigliare tutti i consiglieri comunali scatteranno una foto con le mani dipinte di blu vediamo lo spot realizzato per la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo di nuova di nuova di nuova dai dobbiamo fare una cosa di nuova di nuova Grazie a tutti. Grazie a tutti. Notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Grazie per la gentile attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.